Siamo con Giorgio Davidoni, originario di San Vito al Tagliamento, classe 65, dico bene, ricorda bene? Assolutamente. E una vita di carriera professionale e personale costruita all'estero. Assolutamente. Ho cominciato a viaggiare, avevo 14 anni la prima volta, sono andato in Germania e in Olanda con un backpack e quindi ho iniziato fin da giovane, mi è sempre piaciuto capire le culture diverse, conoscere i modi di pensare diversi e poi la vita professionale, grazie a Dio, mi ha supportato in questa mia voglia di conoscere e capire gli altri. Allora facciamo un piccolo ma non tanto piccolo passo indietro, raccontaci come è iniziata la tua avventura professionale all'estero, tu hai una laurea in legge a Trieste, il MIB, ulteriori studi accademici fatti anche all'estero, poi inizi in Zanussi, giusto? Sì, io ho iniziato in Zanussi, mi occupavo di relazioni industriali, dopodiché ho fatto prima Conegliano su Segana precisamente e poi Firenze e poi nel 1996 sono entrato in Ellie Lilly che è una farmaceutica multinazionale americana e da lì è iniziata questa avventura. Ho lavorato prima come direttore del personale del manufacturing, quindi della fabbrica, poi sono andato in corporate, quindi mi sono occupato di compensation and benefit e poi di HR strategy, poi mi sono mosso nella filiata americana dove avevamo a quel tempo neuroscience, che è quindi tutto il sistema nervoso centrale, quindi Prozac, Ziprexa, è stata un'esperienza veramente importante. Poi sono rientrato in Italia come direttore personale della filiata e negli ultimi tre anni ho fatto anche il direttore dell'Information Technology. Dopodiché una mattina eravamo in Tunisia in vacanza, mi ha chiamato il mio grande capo e mi ha detto ci serve in Cina. Era il 4 di agosto, mezzanotte e un quarto del 2010. Il 27 di agosto eravamo con i ragazzi in Cina e con mia moglie Laura a cercare casa, a scuola e tutto. Abbiamo fatto sette anni che sono stati fantastici e dopodiché nel 2017 a luglio siamo arrivati qua a Dubai. Qui a Dubai copriamo 76 paesi ed è quindi un'esperienza molto bella perché per me è la prima volta che seguo vari paesi. Quindi abbiamo l'Africa, abbiamo il South Asia, tutto il Middle East, India e tutta questa paese, e la Turchia. E quindi si continua a imparare, che per me è importante. Nel lavoro ti devi preoccupare quando cominci a non imparare. Quindi l'importante è sempre imparare, conoscere cose nuove, sentirti stressato perché dici ma non so sta cosa. Ecco, nel momento in cui pensi di sapere tutto, ecco, lì ti devi preoccupare. Quanti traslochi? Allora, noi abbiamo fatto in 27 anni in matrimonio, 8 traslochi. A gennaio faremo il nono, la santa donna di mia moglie, sempre con me. Però alla fine la cosa più importante è di avere i ragazzi, la famiglia. Perché, come dico sempre, quando fai questa vita l'importante è trovare un partner che ti supporti e poi tutto il resto diventa più facile. Ok, dall'Italia all'America, dall'America alla Cina, poi oggi qui siamo a Dubai. Raccontaci qualcosa di questo processo di spostamento, no? Che cosa ti ricordi di più di questo cambiare, di questo spostarsi? Che cosa ti sei portato dietro dell'Italia in America e dell'esperienza americana poi in Cina? Allora, la cosa più importante innanzitutto è essere umile e capire che sei sempre un ospite. Cioè non avere questa supponenza che noi italiani siamo i migliori, che sappiamo tutto. Allora, devi essere molto umile. Io ho sempre detto ringrazio questi paesi perché hanno ospitato me, la mia famiglia e quindi, ripeto, volo a basso, questa è la cosa più importante. E poi anche capire che alla fine di tutto, il 90% le persone sono tutte uguali. Nel mondo, quando tu parli con un cinese, un americano, uno svedese, quello che è, la gente è uguale, vuole essere trattata con rispetto e con trasparenza. Poi devi capire quel 10% di differenza. Pezzettino. Mi chiamarono, dopo tre anni che ero in Cina, mi chiamarono a Indianapolis, al corporate e mi dico, Giorgio, spiegaci come lavori con i cinesi, qual è la differenza. E gli dico, guardate, è molto semplice. Se tu c'hai un americano a sinistra e un cinese a destra e tutti e due sono assettati, cosa devi fare? Devi dare dell'acqua. Non serve. L'unica cosa che devi stare attento è che all'americano devi dare un bicchiere molto grande, l'acqua con il ghiaccio, al cinese un bicchiere piccolo con l'acqua tiepida. Per il resto sono esseri umani. Quindi non serve stare a fantasticare, quindi umiltà, capire che la gente è tutta uguale, devi solo cogliere, ripeto, questo 10% che è molto importante, perché è una cultura per motivi culturali, religiosi, storici, c'è la differenza. Però, ripeto, volare basso e dire grazie ogni giorno per il paese che ti ospita. E molto rispetto per la cultura. Molto rispetto per la cultura, assolutamente. Senti, l'abbiamo citata, insomma, tua moglie e la tua famiglia, avete tre figli, giusto? Sì. Sono tutti qui con voi, qui a Dubai. Allora, Alessandro, che ha 23 anni, ha studiato in Canada, adesso lavora qua come consulente. Andrea, che ha 19 anni, sta studiando l'Istituto d'Impresa a Madrid, e Luca, che fa 15 anni adesso a Natale, invece studia qua a High School. In questo momento Luca è a Istanbul dal suo miglior amico, che è uno spagnolo che vive in Turchia. E mi pare che quindi abbiano nel DNA questa capacità di incontrare culture, no? Assolutamente. In Friuli noi compriamo la casa per i figli. A miei figli ho detto anni fa, ho detto, io non vi lascio una casa, ma vi dirò due cose. Vi faccio vedere il mondo e vi do l'opportunità di studiare dove volete. Quindi questa apertura mentale, penso che sia, ripeto, come padre, con Laura come madre, abbiamo deciso di dire, guarda, un appartamento, quello te lo devi arrangiare tu. Però farti aprire la testa, questo è quello che noi vi possiamo dare. Senti, e quanti paesi avete visitato? Noi come famiglia abbiamo visitato 52 paesi. Qua c'è tutta la nostra storia di 27 anni con Laura e ragazzi, di dove siamo stati, di cosa abbiamo fatto, facciamo un sassolino, una conchiglia, un biglietto, quello che è di dove siamo stati. Ripeto, visitare il mondo per noi è stata una cosa importante. Devo dire che l'unica parte del mondo che non abbiamo visitato ancora bene è il Sud America, in effetti quando andrò in pensione, la Laura lo sa già, mia moglie, mi prendo un anno di sabbatico, mi rimetto lo zaino come quando avevo 14 anni e mi sparo tutto il Sud America in giro. Beh, tu sai che come e fasce portenonesi del mondo abbiamo un sacco di discendenti dei nostri emigranti, insomma, in tutto Sud America, quindi sarà l'occasione giusta anche per incontrare insomma altri friulani in giro per il mondo. Volevo ritornare un attimino sulla tua professione. Che valore ha oggi lavorare nelle risorse umane? Mi viene da dire lavorare un po' sull'umano e meno sul tecnologico. Oggi ha ancora senso? Ha ancora valore? Allora, mia mamma l'altro giorno è andata in un'azienda di telefonia e mi ha detto, no sai sono andata lì per fare il nuovo contratto, perché c'è questa ragazza che è molto carina. Allora, quando noi andiamo a fare degli acquisti, siano delle scarpe, siano un computer, cosa fa la differenza? La persona che ci riceve, la persona che dice, ah ciao Giorgio, guarda che so che a te piace questo tipo di camicia o di scarpe e le riconosco. Per cui se noi vogliamo avere dei risultati di business, che tu sia un'azienda familiare che, ripeto, vende il formaggio, il pane, questi prodotti sono delle commodities. Quello che fa la differenza è se c'hai un supervisore che è in grado di motivare i dipendenti, perché un dipendente è motivato da una customer experience, un'esperienza del cliente, che poi ti porta ai risultati di business. Perché, ripeto, le scarpe, la giacca, la camicia, il formaggio, il pane, non è che puoi dire che questo è significativamente migliore rispetto all'altro. Quello che fa la differenza è la donna o l'uomo nel negozio che quando entri ti sorridono e dicono, guarda che mi è arrivata proprio quella cosa che so che ti piace a te. Per cui per me è un onore di lavorare nelle risorse umane, perché anche in un'azienda molto grande come la nostra, alla fine è la relazione umana. E la relazione umana non viene certo gestita da me o dal mio capo o dal suo capo, ma dall'informatore medico-scientifico, dall'informatrice medico-scientifica che va dal medico e non deve dire, ah guarda che il nostro prodotto è migliore. Dice, guarda per questo paziente il nostro prodotto va bene, oppure va bene quello del concorrente. Cioè è capire l'esigenza del paziente, è capire l'esigenza del cliente, questo fa la differenza. Quindi alla fine, ripeto, tutti abbiamo gli stessi software, gli stessi computer, le stesse robe. Quello che fa la differenza è la capacità di connettere con le persone. Prima dicevi aziende non solo multinazionali, parlavi anche delle aziende di stampo familiare, tra l'altro in Italia, in tutta Italia, in Friuli Venezia Giulia, le aziende diciamo così di family business sono ancora una fetta molto importante, magari anche aziende medio-grandi, ma comunque di stampo familiare. Dal tuo punto di vista che cosa dovrebbero fare oggi le medio-grandi aziende del Friuli Venezia Giulia, per fare un salto magari anche dopo questo momento di pandemia non indifferente, quindi per una ripartenza importante, o anche magari per guardare a territori come questo, a cui magari non pensano attualmente. Beh allora, in Italia abbiamo una grossa fortuna, abbiamo un'eccellenza, e non solo nel nord-est, ma tutta Italia, di prodotti di qualità. Io dico sempre a mia moglie, quando vado alla mall qua, vedo tutti questi nomi italiani nei negozi, dico che poi sono aziende indiane, sai tu di dove, che chiamano le scalpe Alberto, dico se ci pagassero le royalties in Italia per usare il nome italiano, tanto per dire quanto il brand italiano è forte. Il problema nostro è che non ci muoviamo come sistema. Quando ero in Cina, il mio capo, il mio primo capo, era un francese. E quello che ho imparato è che quando aprivano una mall in Cina, arrivavano le aziende francesi, concorrenti. Tutti i concorrenti andavano nella mall, 20-30 aziende francesi, diciamo, noi dobbiamo affittare 20-30 negozi, diteci il prezzo, gli spazi. Quindi i francesi trattavano avevano gli spazi migliori e i prezzi migliori. Poi arrivava l'azienda A italiana, l'azienda B italiana, l'azienda C italiana, una per una. E quando andavano a negoziare ovviamente gli davano un negozio dietro i bagni ad un prezzo esorbitante. Cioè, non riusciamo a fare sistema. Cioè, noi dobbiamo fare sistema. Questo è quello che manca. Ed è questa cosa che ognuno pensa che io non devo andare... No, ti devi muovere come paese, come regione, sia il Veneto, il Friuli, quello che è. Ma è questa cosa di essere troppo campanelisti che ci frega. I francesi sono una forza incredibile. Anche qua, ripeto, loro vanno concorrente, vanno insieme. E quindi riescono ad avere i posti migliori e i prezzi migliori. È un problema culturale quello del campanelismo nostro, effettivamente nel piccolo e nel macro abbastanza importante. Sì, ma oggi giochiamo, non siamo più a fare le gare fra Morsano, Savorniano o Teor. Cioè, viaggiamo ad un altro livello. Per cui devi pensare in una maniera diversa. Ripeto, se io posso dare un consiglio è guardare la Francia, perché nella mia esperienza personale loro hanno un sistema paese che è incredibile. E copiare, insomma, da chi fa le cose meglio non è una cosa... Sì, bisogna imparare. Bisogna imparare da chi fa meglio di te. Senti, il prossimo viaggio? Il prossimo viaggio, Africa. Stiamo pensando il centro dell'Africa. Abbiamo fatto tutto il Nord Africa, abbiamo fatto tutto Sud Africa, Zimbabwe, tutta questa parte. Dovuto al Covid abbiamo dovuto bloccare Botswana e questi paesi. Speriamo al prossimo anno. Oltretutto mi farebbe anche piacere ritornare in Friuli. Sono tre anni che dovuto al Covid non siamo a casa. Per cui anche un giro a San Vito al tagliamento. Una tappa bisogna farla. Allora, Giorgio, virtualmente tiriamo fuori tre oggetti diversi da questo meraviglioso contentore di vita. Raccontaci tre aneddoti su tre paesi diversi. Ma allora, tornando al fatto che tutti i paesi sono uguali. Il primo è in Cina. Mi ricordo una volta che sono andato nel sud della Cina e mi portano in Cina, mangiano nei ristoranti perché le case sono molto piccole e praticamente ti portano in questi ristoranti dove c'hai una saletta privata. E ad un certo punto arrivo e due colleghi che mi avevano invitato a cena arriva col vassoio e la cameriera e c'erano delle zampe di gallina bollite. Al che uno dice, madonna che roba è. Dopodiché mi sono ricordato che mia nonna, Maria, mangiava le zampe di gallina. Per cui ho detto, vedi che tutto il mondo è uguale, quindi ho mangiato le zampe di gallina. È stata una bella esperienza. Un aneddoto dell'America è invece che l'America è un paese molto diverso e quando sono arrivato, i primi sei mesi ero in Indianapolis e lavoravo con le persone in Indianapolis. Io pensavo di sapere l'inglese, ma ovviamente quando vai lì, dopo sei mesi ero veramente contento perché capivo gli americani. Non capivo gli americani, capivo quelli di Indianapolis. Perché quando ho cominciato a coprire tutta l'America, vi posso assicurare che andare dall'accento del Texas all'accento di New York, io non ce la facevo. Fortunatamente avevo due ragazze, quel tempo lo avevano per me, e quando mi telefonavano, mi parlavano, mi dicevano, scusate, parlate voi e poi mi traducete. La terza, un aneddoto qua di Dubai, che devo dire, qua a Dubai hanno delle idee di business molto belle. Prima, quando siete venuti, ho detto, Giorgio, guarda che c'è il tappo della macchina aperta. Ho detto, no, è aperto perché mi devo venire a fare benzina. Qua ti viene un camion, tu lo chiami, e ti viene qua, ti fa la benzina a casa per lo stesso prezzo che paghi al distributore. Ti fa benzina, ti cambia l'olio, ti cambia le gomme, fa tutto. Quindi c'è questa capacità di pensare oltre a fare business, oltretutto questi sono degli inglesi che ha messo su questo business. Quindi l'esperienza di questo vaso è che bisogna essere aperti, bisogna pensare avanti. Una cosa che mi dispiace dell'Italia è che abbiamo una grande storia, ma non si può muoversi nel 2020 o 2021, 2022 quasi, guidando la macchina e guardando lo specchietto retrovisore. Basta dire, eh, abbiamo avuto questo, il rinascimento, i romani, basta, quello è finito, è andato. Il mondo devi guardarlo andando avanti, basta pensare che siamo i più fighi perché abbiamo fatto duemila anni fa qualcosa, è andato. Giorgio, grazie, e veramente della tua storia, di questa condivisione di vita bella, veramente importante, e noi ci vediamo martedì da Expo. No, grazie, e mi permetto di dire, se ci sono degli amici pordenonesi, se posso essere utile per qualsiasi cosa, sono qua. Io ho avuto la fortuna di avere questa vita grazie a delle persone che mi hanno aiutato, per cui se c'è qualcuno che ha bisogno, per quanto io possa fare, sono qua. E questa è una cosa molto importante perché, insomma, giovani che ancora oggi partono dal Friuli Venezia Giulia, ce ne sono veramente tanti, sicuramente questa zona è una zona che continuerà a crescere ancora molto, e quindi grazie anche per questa disponibilità. Grazie a voi.